Più delle case sono degli stereotipi questi qua, sono le casette in Canadà. Ogni casa ha il suo giardino con l'erba tosata precisa e non ce ne sta uno fuori posto perché sono tutte quante tosate in maniera più o meno perfetta, sono tutte veramente tenute in maniera impeccabile. Anche perché ha detto lo zio Italo se tu non tosi la tua erba e il vicino ti denuncia il comune, viene il comune, tosa la tua erba e poi ti fa pagare perché l'erba ce la devi avere tosata per forza. Se ti sei ammalato, se non hai voglia, se vai in vacanza devi avere qualcuno che ti tosa l'erba, se no ti trovi il conto del comune se stai sulle scatole ai vicini. E quindi niente, qua vale il detto che l'erba del vicino è sempre più tosata. Soprattutto se il vicino ti odia, tosa di più l'erba così ti può denunciare al comune. E' bello, bello questo. Si, poi dà l'idea che non c'è altro niente a cui pensare perché se il comune va dietro alle denunce sull'erba che è stata più o meno tosata è una cosa un po' assunta. Ciao! 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 Ciao!